ciao a tutti da out of beat e da toni sauffa oggi andiamo a fare un veloce confronto tra il samsung galaxy note 8 e il samsung galaxy s8 plus il nuovo top di gamma di samsung contro il quasi vecchio top di gamma di samsung allora andiamo a vederlo subito da un punto di vista estetico questi sono i due telefoni come si si mostrano entrambi molto belli ma secondo me da un punto di vista estetico vince a mani basse le s8 plus perché risulta a differenza di quanto dicono molte altre persone più maneggevole rispetto al note 8 perché sono aumentate le dimensioni infatti se andiamo a sovrapporre i due telefoni non possiamo aspettate li metto li metto per bene non possiamo non notare che è leggermente più lungo il note 8 e forse un po più spesso anzi senso un forse più largo e anche molto più spesso quindi un telefono molto importante se poi paragoniamo anche il peso di entrambi i telefoni scusate mi tolgo questa roba se poi paragoniamo anche il peso dei due telefoni non posso non citarvi il fatto che le sotto plus e 173 grammi le note 8 e 195 grammi quindi ci sono un bel po di grammi di differenza passiamo alle differenze perché poi tutto il resto è uguale stesso hardware stesso processore stesso processore grafico scherzo stessa scheda grafica cambia che cosa cambia diciamo oltre alla dimensione il fatto che l'S8 plus è dual sim mentre scusatevi il note 8 e dual sim l'S8 è mono sim poi 6.3 pollici il note 8 6.2 pollici l'S8 i ppi la risoluzione è la stessa per i ppi 529 contro 521 del note 8 è ovvio che a dimensioni di display più elevato si fa fatica a mantenere gli stessi ppi ossia stessa densità di pixel vi segnalo anche la diciamo superficie coperta l'84 per cento per l'S8 plus mentre l'83 per cento per note 8 quindi anche se in modo impercettibile il rapporto è sfavorevole rispetto al note 8 cioè ha un po più di cornici a parità di display rispetto all'S8 plus i sistemi operativi android 7.0 per l'S8 7.1 nuogat entrambi 7.1 per il note 8 differenze altre differenze 6 giga di ram per il note 8 4 giga di ram per l'S8 plus se mi chiedete se ho notato differenze sinceramente ancora no nell'uso quotidiano ma ancora no però è da poco che ho il note 8 quindi potrei dire delle bagianate andiamo alla vera novità del del note 8 rispetto all'S8 ossia la doppia fotocamera infatti l'S8 plus ha una fotocamera da 12 megapixel mentre il note 8 a un dual camera da 12 megapixel entrambi stabilizzati con i cazzi mazzi e controcazzi funzionano bene entrambi i dispositivi non ho ancora visto perché non c'è la recensione su di hox mark di o di xox mark caz maz il sito americano specializzato nel recensire le camere dei telefoni ma anche le fotocamere di tutti i dispositivi fotocamera anteriore da 8 megapixel ovviamente la differenza sostanziale è il perché si prende il note 8 e per questo c'è la sp queste sono le le differenze adesso andiamo a fare una veloce prova di velocità con applicazioni semplici e banali concludo dicendovi la differenza di batteria perché l'S8 plus ha una batteria da 3500 mAh il note 8 da 30000 mAh durata uguale migliorata non si sa però cazzo andiamo avanti cioè mettiamo batterie molto più ampio cioè facciamo come i huawei che hanno batterie da 4000 mAh e quindi arriviamo tranquillamente a sera quindi il mio il mio suggerimento è questo andiamo ad aprire delle applicazioni entrambi sono collegate alla stessa rete wifi sono collegate alla stessa rete wifi luminosità massima e gps attivato andiamo ad aprire quelle che sono delle semplici applicazioni quindi il browser e il sito internet di autobit che è il nostro forse sono un tantino offline ok andiamo ad attivare tutto perché sono altrimenti lo scontro un tantino impari ok sembra che abbia fatto prima il note 8 andiamo ad aprire google plus beh i 6 giga di ram si fanno sentire andiamo ad aprire youtube in questo caso ci siamo diciamo che hanno fatto la patta google map ha caricato prima l'S8 ok andiamo a rivedere un attimo questi passaggi e poi chiudiamo perché non è che c'è c'è tantissimo da fare rivediamo google plus per in questo caso io non ho l'account quindi non lo rifarei andiamo a vedere internet sempre su chrome questo caso uguale mi sembra maps anche in questo caso mi sembra uguale non non ho altre applicazioni non lo so proviamo ad aprire youtube studio ma se non ho l'account risulta un po difficile andarla a paragonare ragazzi io credo di aver detto tutto posso aprire posso aprire non apro un cazzo facebook questo è facebook light ma questo dimostra che cosa che chi si fa le pippe mentali sui 6 giga di ram 4 giga di ram mega processore migliorato quello migliorato quell'altro ragazzi facciamo attenzione non ci facciamo prendere in giro i telefoni sono tutti performanti già da diversi anni quindi è solo è solo la nostra voglia di avere l'ultimo gingillo elettronico che ci spinge a spendere un sacco di soldi per questi telefoni ma in realtà adesso lo prendo un attimo mi sposto in realtà come potete vedere dai miei filmati anche uno xiaomi redmi note 4 ha quasi le stesse quasi le stesse performance a livello di uso quotidiano di questi due mostriciattoli ovvio che la differenza la fanno la fotocamera la videocamera la qualità costruttiva ma non sempre perché comunque questo è anche ben ottimizzato ripeto ok siamo appassionati e spendiamo soldi però facciamo attenzione che molto spesso si può spendere di meno avendo un prodotto qualitativamente elevato dato in self è tutto vi ringrazio vi invito ad iscrivervi al canale a mettere mi piace e a seguirci sempre e comunque ciao agli uni